Bello a tutti buoni, sono Arce e benvenuti in questo nuovo video delle differenze della settimana Oggi siamo in compagnia di Ezalb che purtroppo ha preso il posto di Eren e di Martina Ciao Tina Ciao ciao No stavo scappando Ezalb Vedete le particelle strane che non ci laviamo da un sacco Eh lo so lo so Soprattutto Martina Comunque ragazzi rispetto a settimana scorsa vi chiedo una cosa Ricordo che sei Ezalb Ah giusto Vai Rispetto a settimana scorsa ragazzi superiamo invece che i 5.000 i 6.000 like So che ce la possiamo fare Dai con il like E vi racconto un attimino che cosa abbiamo cambiato rispetto al primo episodio Per migliorare appunto la visibilità, la visione di tutto il video Allora Tina ha proposto invece di usare 5 minuti per trovare le differenze E un minuto per guardare la casa Di utilizzare 2 minuti per scrutare la casa le differenze E 3 minuti, solamente 3 minuti anzi Per cercare le differenze Oggi partirà lei Ci saranno 11 differenze che ho scritto qua Più 3 bonus che saranno delle cose che o ho spostato O proprio ho aggiunto Quindi questo sarà Starà loro Scrutare per bene la La casa Quindi niente ragazzi Direi di iniziare subito Ezalb ti chiedo gentilmente Di sportstarti su TS Perché devo andare da Martina Devo fare cose con lei Ezalb tu tipi per me vero? Sì Ok Però prima devo dire una cosa Sì Vai Posso? Sì certo Voglio proporre una cosa per questo format Che neanche detto a Marci Però nei commenti Diteci se vi piace l'idea Di inserire un gettone indizio Ok Ok ci sta Ci sta Sono d'accordo Ditelo nei commenti Mi piace Potrebbe essere una bella giuda Ma c'è stato qualcuno che ha detto Perché non aggiungete fuoco fuochino Per le cose che non trovano alla fine Vediamo un po' come implementare tutto Direi di iniziare Stai carica Sono carichissima Esalb ti chiedo gentilmente di andartene Ragazzi sto per far partire il timer Allora adesso farò partire il cronometro Nel mentre ti però tira Quindi 3 2 1 Via E' partito il timer Tina vai Hai due minuti a partire adesso Potele in alto Telefono Macchina fotografica dipinto Qua ci sono i cosi dei pesci Carote Limoni Sono miele Qua c'è un acquario Questo è un orologio Tavolino Qui c'è una specie di bambino Un ferro da stiro Quelle sono golden apple Non sono limoni Ok Qui c'è il piano di sopra Questi cosa sono? Sono lampadari Ah lampadari Poi c'è una culla Con dei letti Questo che cos'è? Una polaroid Una televisione Idromassaggio Una tv Ok ok Qui abbiamo una specie di bambinetto A caso Il bambinetto Manca la tubatura qui Devo stare attento Ok Ok Qui sotto ci sono cose Che cosa Ok Come si chiama il Cosa per fare la bp per i maschi? Il Il pisciatoio Pisciatoio Che si chiama Qui c'è un cestino Questa cos'è una macchina per Non è un cesto d'occhio È un waterbasket Cos'è un secchio Ah ok Questa cos'è una macchina? Questo? Un furlatoio Non so Il furlatoio Il furlatoio Brava Non mi veniva in mente Ho dovuto giocare Basta Basta Controlla tutto per bene Ne hai ancora 45 secondi Quindi fai le cose Con Carlo Perché dopo Ti ricordo Che tu hai solo 3 minuti Ok Sì Sì Che guarda tutto per bene I particolari Ah qui c'è una spada Candele Uh L'anello L'anello L'ho visto A sto giro Ok Qui c'è un'acce Delle candele Ok Qui c'è una testa di zombie Vai Qui c'è una braccia Devo guardare anche fuori? Eh sì No fuori non c'è niente Te lo dico io Ok qua c'è un Lampadario Vai vai Un orologio Ti sto per tippare io Ok 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 raga Sono qui Vediamo se me lo ricordo Dice Il pullatoio Ok Ok Stop 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 Ok Ok Faccio partire Vai puoi andare Tina Puoi andare Ok Va bene vai Ora qui manca la macchina fotografica Ok Vai Qua mancano Le mele E quelle verdi Ok Qui c'era la spada Ok E ti stai andando forte? Questo non c'era Non posso dirti niente Devi dirmelo o dimmi no No Questo non c'era E invece c'era già Monete C'era già C'era Vero Qui non c'è il L'anello L'anello brava Che raga sta volando Sta volando troppo Oh Questo non c'era Sicura? Questo qua non c'era Cura Ok quindi hai trovato quello bonus Sappi che vale Ok Una cosa in più Ok ok Buono buono Minchia raga sta volando Tina Ma proprio sta volando un tot Non me l'aspettavo una partenza così pesante Dove 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 Vai Tranquilla Vai tranquilla Allora E questo cos'è? Qui c'era la polaroid Mazzà Hai dominato anche quello Brava Tina Stai andando veramente forte Devo stare sincero Non me l'aspettavo così forte da te Ok E E qui manca il gabinetto Azzarola Azzarola Ah e qua manca il dentifricio E la madonna Tutte le sto azzeccando Ma cos'è? Quante ne mancano? Eh ne mancano un po' Ne mancano un po' Però non ti posso dire niente Sì Non ti posso dire niente Eh no è che non li ho contati Cioè Siamo a Non te lo so dire dai Siamo a tre Sei normali Ne ha azzeccate Più due bonus Quindi ne mancano quattro Sì 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 Ah in realtà la polaroid È una cosa doppia Perché Lei l'avevo sia tolta Che ha aggiunto un coso Quindi GG 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 Ok ok E Anche lo scaffale Era una cosa doppia Quindi due cose ti mancano in realtà Dove sei Tina? Ti ho perso Due cose Sono in giro Ti mancano Ti mancano due cose Aspetta un attimo Ma questo cestino qua c'era? Eh boh Lo so No questo mi sembra che non ci fosse Sicura? Sì Ok Hai azzeccato altre due Perché lì c'era un table red lamp E al posto avevo messo il cestino Tina te ne manca uno Te ne manca solo uno No due te ne mancano Sorrami Due te ne mancano Mamma mia regà Ma cosa sta facendo? Ma com'è possibile? No Tina c'era Ma non sto guardando il tempo? Ok 20 secondi mancano Tina guarda che Qui secondo me c'era qualcosa Ma non mi ricordo cosa No ma qua c'era una stanza Sì ma non ho messo niente Nessuno dice Ah ok No no ho messo niente Qui c'era qualcosa 5 secondi 5 secondi 3 2 1 Stop 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 Allora adesso siccome ho stoppato Prima di chiamare Aaron Ti dico che manca uno zombie Che era qua nell'angolino Cavolo zombie è vero E qua sopra mancava un lampadario Che era attaccato qua Ah ho visto Per il resto se vieni a controllare Nell'altra casa Hai azzeccato tutto Vieni vieni qua Ti faccio vedere Mamma mia Se tu noti Hai già qua Se tu vieni qua Oddio non l'avevo vista le monete Non so Se tu vedi qua Aspetta che sto laggando un po' Qua c'era lo scaffale Vedi c'era lo scaffalino E invece tu hai messo il bird coso Il cosino degli uccelli Sì Che vabbè non mi hai trovato il nome Ma sti cazzi Andava bene Qui sotto Qua Qua per terra C'era il coso che si chiama Table lamp red Tu mi hai detto che qui non c'era Hai trovato l'engagement Il coso del matrimonio Hai trovato tutto Tina Non me l'aspettavo Ti mancano solo due cose Pisa Quindi questa volta Credo che Aaron Non so cosa ce la potrebbe fare Anzi non Aaron Esalb Potrebbe avere qualche difficoltà Esalb Quindi andiamo Andiamo a chiamare Aaron Anzi vieni qui nella capsula Va del tempo Allora adesso Ti dico subito una cosa Perché è successo qualcosa con Martina Siccome Come ti ho detto Ci sono delle cose Che potrebbero essere state aggiunte O tipo Ho tolto una cosa E messo l'altra Ovviamente se ho tolto una cosa E messo l'altra Vale due punti Perché tu mi dici Che ho tolto una cosa E messo l'altra Ok Quindi Martina ne ha trovata una Così che stanno le cose Ad ogni modo Se tu mi dici Che in quel posticino lì C'era una cosa Rispetto ad un'altra Che trovi appunto le due cose Non ti ricorgi una o l'altra Ti darò lo stesso due punti Quindi Sei pronto Per iniziare Hai due minuti A partire da quando ti tipperò Quindi devi essere veramente carico Sei carico? Sei pronto? Esatto Relativamente È la mia prima volta Quindi Tre Due Uno Vai Partito 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 Ok Esatto vai due minuti Vai C'è tantissima Allora vediamo I pot qua ce ne sono Non conto ogni pot Sono minecraft normale Vai Due sedie Solo mod Solo mod Vai Ah ok Qui ci sono due davanzali E ci sono dei Dei Cosi Dei braceri sopra Ok Chi non chiamati così? Candelata Frullatore Nel forno E questo barilotto Qua sopra Nella cucina Carota Melepere Acquario Ok Candelato Mele d'oro Mele verdi Mele d'oro Mele verdi In che senso Mele d'oro Mele verdi Ah mele d'oro Ah ok Giusto Sono altri Quante luci ci sono? C'è Uno zombie Un telefono Fotografia Dipinto Due giari Mica Passione acquario Proprio qua dentro C'è questo pupazzetto Dalle monete E un ferro da stiro Hai un minuto Controlla tutto per bene Le bottiglie Il frigorifero Non c'è niente Qui dietro Ok niente Va bene vado su Allora vado su Ho detto anche a Martina Che non c'era niente Sì beh certo Allora lettino Ok la tv Con Una polaroid Ah Yacuzzi Mamma che Sciccheria Pauolino Divano Blablabla Ok C'è un lampadario Qua c'è un 30 secondi Un orologio Mi manca qualche locale Per caso No solo questo Hai fatto tutto Ok c'è il Il cesso Il tubo del cesso È a posto A sto giro Anch'io C'è un C'è un pisciato Ma tu non hai giocato L'altra volta Ho giocato era Come fai a ricordarti Ho visto il video Scusa Un po' di furbizia Fuori Niente Ok un recap veloce 10 secondi Ti tipo via Ovviamente non guardare Non c'è un'altra Ok Ok Va bene 5 4 3 2 1 Esal nere Eccoti qua Ok Stai qui guarda dall'altra parte Ti porto dall'altra parte Come ho detto prima Martina Avrai circa 3 minuti e 5 No in realtà Anche a Martina Ho fatto 3 minuti Quindi pronto eh Vado È pronto? Sì Ok 3 2 1 Vai Ti ho tippato 3 minuti a partire da adesso Esal nere vai Io vado subito in bagno Dove manca Lo spazzolino Di fianco al pisciatoio E manca il cesso Ok va bene Te lo dico così Qua manca il lampadario Va bene Qua il divano a posto Abbiamo la jacuzzi Questa cosa è diversa Questa è diversa Ok bravissimo Cosa c'è la prima Il tv Qua c'era una polaroid Perfetto E tu hai trovato quella cosa lì Perfetto Letto E lettino E qua credo basta Attenzione Esalb Incredibile Attenzione carico Mamma mia Vigo bar e le bottiglie A meno che non siano cambiate le bottiglie Qua è uguale Poi quindi andiamo qui Dove le monete ci sono Il ferro da siro c'è Il pupazzo c'è Ok Ok Quindi che cosa manca Abbiamo il cervo Non abbiamo la testa dello zombie Va bene Qua 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 manca la La macchina fotografica Bravissimo Però ti stai perdendo i dettagli Cosa che Martina ha azzeccato subito I dettagli E vabbè aspetta Aspetta Qua mancano le mele Bravissimo Quelle verdi Sì Qua l'acquario Oddio Forse c'era qualcosa qua Niente Non c'era niente C'era niente lì Mi sembra di sì Vabbè i tavolini I dettagli Mi sto perdendo I dettagli Ma ascolta I lampada Cioè No no Quelle cose lì Come detto Martina No 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 Il contenuto di questo forno qua Non puoi cambiare niente Bomber dal forno Ah ok Allora Controlla bene Dimmi quello che Aspetta il barilotto d'acqua C'era l'acqua dentro l'altro Beh i lampadari Mi hai detto che è a posto Qua manca l'altro D'avanzale E il cucù Non c'era Va bene Bravissimo Ti mancano Uno Due Tre cose circa Quattro cose Tre quattro cose Ok 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 Adesso Un attimo a rilento Secondo me Non le azzecchi Per il semplice fatto Che non le hai nominate Non le hai proprio viste Prima queste cose qua Ah non le ho viste Secondo me no Beh una Una mi ricordo Che ti è sfuggita Dalle altre forse sì Ok No forse oddio No è vero Se non le ho dette Probabilmente Hai 20 secondi 20 secondi Non le ho dette Probabilmente Attenzione 20 secondi per Eren Ah qua dietro non c'era niente Mi dicevi 10 secondi Eren 10 secondi Bella Yakuzie A posto Qua Eh qua C'erano ben pochi dettagli E il lampadari Te l'ho già detto L'orologio è al suo posto Stop Ok Allora Facciamo un piccolo recap Dai Allora La macchina fotografica Adesso lo farò proprio tutto Adesso Così almeno vediamo Vediamo un po' tutto quanto Chi ha fatto La macchina fotografica Che c'era qui nell'angolino L'avete azzeccata entrambi Quindi un punto per entrare No guarda che lui non l'ha trovata Sì sì a camera Come no Oh iniziamo male Martina Una volta Non mi ricordo cosa hai dimenticato La spada Che c'era qua sopra La spada Non l'hai azzeccata C'era una spada qua sopra Era una spada lì Che Martina Ha azzeccato però Martina ha azzeccato Quindi 1 1 0 Poi c'erano le mele verdi Che ovviamente entrambi Avete azzeccato Che non è una cosa Che ho detto Ma più facile da fare Lo scaffale Che veniva cambiato Con il bird Il coso del Insomma il cuckoo Che non è proprio un cuckoo Però vabbè Quello era il senso L'avete azzeccato entrambi Bravissimi Quindi bravi entrambi Quindi due punti a testa Perché ok Poi Abbiamo il table Red lamp Quindi la La lampada da tavolo Rossa Che era qua C'era il cestino Al suo posto Martina l'ha azzeccato Quindi per te Due punti in meno Pertino a due punti Mi spiace No aspetta Non ho capito Sai Qui c'era una lampada rossa E al suo posto Ho messo il cestino Ah ok Infatti quel cestino Mi sapeva di fuori posto Ma non sapevo Martina l'ha azzeccato Martina l'ha azzeccato Poi qua c'era l'affare appeso Poi c'era la polaroid Sì lo zombie Bravissimi Lo zombie solo te però Solo tu Dice Martina no La polaroid Sopra L'avete azzeccato entrambi Avete visto che c'era Il grant al suo posto Quindi uno Il grant E Ignoranza Uno e uno Poi Il portaspazzolino E il cesso Entrambi l'avete azzeccato Quindi Ok Uno e uno L'engagement Sotto c'era un anello Il coso che richiamava La scorsa serie Piccoli nell'angolino Qua L'ha azzeccato Solo Tina Eh allora Mi sa che Facciamo un recap Queste sono tutte le differenze Che ho se trovate 12 punti per Tina Invece Aaron totalizza esattamente 10 punti Per Esalb nere Attenzione In realtà Marsi te ne sei dimenticato uno Perché lui ha trovato il lampadario E io no Quindi ragazzi Ha vinto Martina Settimana prossima In teoria Lo facciamo fare a lei Quindi la differenza Perché questa volta Aaron che doveva farlo Devo farlo io Devo farlo Aaron Però io lo sostituisco No non puoi Aaron non c'era Lo volevo far fare a lui Quindi tu non c'eri Quindi Esalb Sta al tuo posto La prossima volta Non vengo più eh Non vengo più Chiamo Aaron La prossima volta La farà Tina Spero che mi sia piaciuto Martina è stata veramente brava Stavolta Perché Brava Brava la nemica Esalb Devi guardare il suo video Perché Il video Perché praticamente Lei Sparata Ha detto tutto Ha veramente detto tutto Martina Sono fiero di te Grazie Siamo finiti Ci vediamo al prossimo video Sì sì Grazie Grazie mille Ciao